Ciao ragazzi, benvenuti a Un Crimine al Giorno 22 marzo, un crimine peculiare, un crimine familiare, casalingo, importante perché quei giorni del 1992 la zona di Sanremo è stata sconvolta per 48 ore da due crimini molto sanguinolenti, commessi da quello che poi è passato alla storia come il mostro di Sanremo, Becchino che uccise con una somma di 92 coltellate due donne che vivevano in casa da sole, una prostituta e un'altra donna che viveva da sole, entrambe legate dalla passione per gli animali, ma il mostro di Sanremo in questo caso, indiziato anche di un terzo delitto, è stato trascinato all'interno di una faccenda in cui effettivamente non c'entrava nulla. Il nostro crimine per il 22 marzo riguarda la signora Giuliana Beghello di anni 37 che torno la mattina alle 9 del 22 marzo è stata uccisa con sei martellate che le hanno praticamente staccato la testa dal collo, un crimine veramente veramente cruento, portato a termine da una coppia di giovani innamorati, ovvero la figlia Emanuela Beghello di anni 15 e soprattutto il fidanzato Renato Cominelli di anni 24 che tentarono inscenando una situazione, una scena del delitto che poteva sembrare quella, somigliare a quella che aveva lasciato il mostro di Sanremo nei suoi due crimini, quindi foto sparse qua e là, album fotografici, quadretti rovinati, hanno cercato di inscenare una similitudine con quei crimini che erano avvenuti da pochissime ore, in realtà la signora Giuliana Beghello è stata uccisa nel 1992 ad armaditaggia perché si era fondamentalmente opposta all'unione dei due ragazzi, cioè Emanuela e Renato, principalmente perché riteneva ovviamente la figlia essere troppo giovane e soprattutto inaffidabile quel Renato Cominelli che era un giostraio e che assomigliava molto al marito, all'ex marito di Giuliana Beghello che aveva lasciato lei e la figlia appunto Emanuela dieci anni prima per fuggire con una ragazza thailandese, insomma si era opposta a questo legame e il risultato fu di essere uccisa il 22 marzo 1992 in una situazione casalinga a colpi di martello appunto. L'unico condannato della vicenda è stato effettivamente il Cominelli, condannato a 21 anni perché in qualche maniera venne condannato sia per aver operato il delitto, sia per aver plagiato Emanuela Beghello di anni 15 che dovette attendere ovviamente la maggior età per essere portata a processo e poi venne assolta perfino dal reato di diffamazione nei confronti di Paolo Savini, il cosiddetto mostro di Sanremo. Avevano mostrato un comportamento molto strambo i due ragazzi subito, una volta tornati a casa assieme a degli amici dopo aver commesso il delitto per crearsi un alibi, ma la ragazza aveva reagito in maniera molto anticipata rispetto alla scoperta del terribile scena del delitto che si presentava sotto gli occhi e anche al funerale della madre aveva agito, recitò insomma un maresciallo dei carabinieri in modo tale da come se volesse comunicare qualcosa. Vennero insomma indagati, interrogati e la verità venne a galla in maniera estremamente veloce. Quindi la famiglia martello è ovviamente un titolo un po' provocatorio, il mostro di Sanremo è stato tirato in causa senza che effettivamente fosse colpevole di nulla e la storia del mostro di Sanremo è qualcosa di molto interessante che potrò trattare in futuro, insomma questo necroforo universitario istruito con famiglia proveniente dagli ambienti dell'ultrasinistra degli anni 70 che si è fatto poi insomma vecchino e assassino per 48 ore, una storia decisamente interessante anche questa, ma la storia di oggi è finita, ci sentiamo come al solito domani per un'altra pillola di crimine alternativo o poco conosciuto con un crimine al giorno. A domani. A domani.